Ciao a tutti, sono Matteo Lenardon e sono il curatore di Open Idea, una serie di eventi organizzati da Vodafone e Zero che si occuperanno di raccontarvi alcune delle idee più innovative nel campo di internet e della tecnologia. Adesso ascolteremo Eric Chang, direttore della fotografia dell'itrocamera. Ciao, siamo con Eric. Hi, Eric. Ciao. Qual è l'itrocamera e come funziona? L'itrocamera è la prima camera di l'itro consumer, funziona per capire il tutto l'itro, che è tutto l'itro che si tratta in ogni direzione e in ogni punto in spazio. Quindi sostiene la informazione di l'itro che si tratta e permette il fotografero di prendere una foto che può essere rifocussata dopo aver guardato la foto. Come pensate di tutte le app che si tratta di prendere le foto con il smartphone e lo share con i social network? Io credo che è stato fantastico di avere i smartphone che prendono le foto, perché ora tutti sono un fotografo. e non solo possono prendere le foto, ma possono stilizzare le foto per permettere la creatività di venire e le share con i amici. Quindi credo che è bello che tantissime persone sono interessate in fotografia. Ok, e pensate che l'itro camera può essere utile per questo tipo di fotografi? Penso che potenzialmente nel futuro si può. Nel momento abbiamo ovviamente una camera di consuma, che non è in un telefono. Ma le foto possono essere guardate sui smartphone, e perché il smartphone è collegato, potete guardare le foto interactive online, sul telefono. E magari in futuro la tecnologia di livello potrebbe potenzialmente essere applicata a camere sui telefono, o anche in più. Grazie. Grazie. Grazie mille. Bye. Bye.